ok aspetta ora non t'ho ammazzato per pietà sto prendendo il pacco drone guarda che ci credevo sono una cazzo cazzo e niente giusto voglio lo porco schifo bravo questo tipo la parte dei noob ma do son morto all'indietro ho fatto ma do si devi capire sono morto all'indietro ho fatto una seconda testo hacker no oh mi dispiace mi dispiace cosa ma adesso non mi ha perduto il mio amore il arco ma tu sei troppo un po' mi hanno fatto in tempo a giampare bravo bravo mi vuoi che mi impegno mi impegno e non sto giocando no bravo bravo è andata a botta di culo anche qui è un po' l'ho slicciato io prevedibile non ti incazzò dietro di te ero no è tu dietro di me no vabbè ho visto teletransportarti eh lo so sono Gesù ora mi teletransporto pure porco di aze fa male fa male uno e due e tre eh ma non vale ma non vale eh no è stata cura è stata cura è stata cura disattivalo disattivalo porco dove ti ho buttato uno l'antica esaria se no dopo mi arrabbio dai dai fa fanculo fa fanculo come parla un po' sono forte diciamo si dai presso il livello 11 ora passi eh che detto presso il livello 11 te la cavicchi che è jumpscare brucio eh brucio eh è fatto uno scatto molto brusco vabbè 27 kill e te sei a nove dai ma perché mi rimane la schermata in giù boh c'è un joystick rotto a gioca con i pompa la voli fa testa sfida ho detto che era mai che non la facessi la voli fa testa sfida gioco a questa sfida vuole fare te guardate 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 che kill vabbè so che vinci tu tanto a ogni santa partita ma dai solamente la quinta che vinco che ti incazza no stava ricaricando guarda anche io sto ricaricando sono la quinta partita di fila che vinco cosa c'entro ho fatto solo 5 ho fatto 5 lo ho vinte e 5 mamma mia potresti migliorare oggi ma dove sei ma non mi vedi proprio dai non guardo la mia mappa non è colpa mia pensavo meglio so che giocassi un minuto per almeno 10 kg le ho fatte i livelli unici non sono come mia perché al massimo faranno 2 kill oh grande bravo aspetta incomincio a laggare scusami sorry bro ma niente solo perché laggo ma nooo serio solo perché lagga no ti ho giunto per caccao sicuro veramente stai perdendo perché laggi poi bravo vabbè dai faccio l'ultimo kill dopo vado dai perchè sempre le private oh bruciato ma chi è quel Matteo mamma mia un amico mio come t'ho bruciato guardate guardate bruciato bobo 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 bruciato ma nooo vabbè ragazzi per questo video è tutto ci possiamo vedere al prossimo video e guardatemi via bella bella